Una bimba di soli due anni è morta dopo essere stata dimenticata da uno dei genitori dentro un'auto con i finestrini chiusi mentre la temperatura fuori sfiorava i 36 gradi. È successo in Minnesota, negli USA. La bambina è stata trovata senza conoscenza dentro il veicolo, posteggiato davanti a un'abitazione. Chiamate le autorità e paramedici non hanno potuto far altro che constatarne la morte sotto sciocchi i genitori della bimba.